Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Al torneo dei candidati siamo arrivati al sesto turno e stiamo per guardare insieme l'unica partita decisiva di giornata. Un vero e proprio testa coda tra Nepomniaci con i pezzi bianchi che si trova solitario in testa e Ding Liren con il nero ultimo con solo i due punti ma in leggera ripresa. Partiamo! Il russo Nepomniaci apre la partita con e4, Ding Liren risponde con e5. Cavallo in f3, cavallo in c6 con alfiere in b5, siamo nella Rui Lopez. La spinta di pedone a6 attacca l'alfiere che retrocede in a4, cavallo in f6 sviluppa attacca il pedone centrale, questa è la difesa Murphy, noi l'abbiamo vista un sacco di volte. Sappiamo che la linea principale del bianco è a rocco corto quindi senza proteggere il pedone centrale. Il nero che cosa fa? Potrebbe anche catturarlo ma per evitare poi che il bianco se lo riprenda anche con un certo vantaggio oppure con una piccola iniziativa inizia, continua con lo sviluppo, inizia a pensare a come mettere il re al sicuro con al rocco corto, adesso che il re nero si trova soltanto ad un passo dall'arrocco corto veramente questa cattura inizia ad essere potente. La linea principale del bianco è proteggere il pedone con torino e1, Nepomniaci gioca la seconda più giocata, lo protegge. col pedone in d3. Arriva b5, l'alfiere si porta in b3, adesso con d6 il nero sta proteggendo il pedone che si trova sempre sotto attacco del cavallo, libera questa azione difensiva del cavallo che adesso potrebbe saltare in a5 per cambiarsi su questo importantissimo alfiere. Quindi per questo motivo il bianco con a3 libera questa via d'uscita per l'alfiere, a rocco corto anche per il nero. Cavallo in c3, Nepomniaci pensate è un esperto di questa variante, non ha mai perso una partita in questa posizione, ha vinto anche contro l'Aronian, il fortissimo russo Inarchiev, il polacco Wojtacek, insomma pareggiato con Karzen diverse volte, quindi grande esperto. Il cinese inizia però a portarlo fuori da queste partite che lui ha giocato, cavallo in a5 invece di alfiere in g4 che è la continuazione principale, dà fastidio a questo alfiere ma più che altro libera la colonna c con tempo, l'alfiere torna indietro in a2, vedete questo alfiere il cinese non lo mette in g4, lo mette in e6, quindi vuole cambiare gli alfieri campo chiaro. Arriva b4, alfiere per alfiere, torre ricattura, adesso al nero gli è rimasto il cavallo sotto attacco del pedone, bisogna decidere se portarlo in c6 oppure in b7. Ding lo riporta in c6 che è la mossa di gran lunga più giocata, interessantissima, ancora un po' poco conosciuta questa linea in cui si porta il cavallo in b7, che per il computer è sempre buona, tenendo appunto libera questa colonna c, ma comunque, cavallo in c6 e qui arriva alfiere in g5. Donna in d7, con queste manovre, Ding è riuscito a deviare da tutte le partite precedenti giocate da Nepognaci e Ding conosce questa posizione perché ha fatto una recente partita, un pareggio contro Vashila Grav, ma anche una sconfitta contro Karzen nel 2017. Adesso che cosa fa il russo? Fa il classico cambio alfiere su cavallo e a cosa serve? Noi lo vediamo spessissimo quando il bianco attacca la siciliana, serve a togliere uno dei difensori, perché l'altro era questo alfiere campo chiaro che è già stato cambiato, quindi a togliere l'ultimo vero difensore dell'avamposto in d5 e portarci subito il cavallo. Ora certo, questo cavallo potrà sempre essere in futuro in questa posizione scacciato con la spinta c6, ma per ora c6 non si può giocare. Quindi, alfiere per alfiere in f6, cavallo salta in questo bellissimo avamposto. Ora non soltanto si minaccia di catturare l'alfiere e sciupare questo arrocco del nero, e qui, liberando questa spinta c3, il bianco minaccia anche di iniziare aggressivamente ad attaccare il centro. Quindi arriva a 5. Karzen e Vasce da Grave contro Ding avevano giocato subito la spinta c4, nevo minaccio invece gioca una novità, la buona torre in b2. Quindi alla mossa a 16 del bianco la partita diventa originale. A per b4, il pedone a ricattura, arriva alfiere in d8, quindi fuori dalle grinfie del cavallo. Arriva anche la spinta c4, il cavallo in d4, quindi si libera questa colonna c, proprio per scacciare il forte cavallo bianco. Giocabilissima era anche il cavallo in e7, quindi qui a seconda del piano che il nero vuole giocare. Adesso il cavallo si cambia in d4, il pedone ricattura. Donna in d2, torre in e8. Abbiamo detto, già c6 è giocabile, ma tanto il cinese la farà subito dopo. Intanto con g3 si apre una via di fuga per il re. B per a4. Ora, per non togliere questa difesa dal pedone centrale, perché vedete rimane sempre sotto l'attacco del... Alla fine, anche se difeso dalla donna, però è una struttura molto migliore con il pedone in d3 e l'altro in e4, nevo minaccio in ricattura giustamente di donna. Arriva c6, il cavallo sotto l'attacco si sposta in f4, arriva alfiere in g5. Non vuol farsi sciupare questa struttura pedonale, ottenuto il cavallo è anche un bel pezzo in questa posizione, torna indietro in e2, quindi attacca il pedone in d4. Si gioca d5, ora attenzione però perché donna sotto l'attacco non può catturare il pedone, perché gli arriva alfiere in f6 e quindi anche avanzando, poi dopo rimane questo problema dell'infilata che vince per il nero da qualità, probabilmente vince anche la partita. Quindi donna sotto l'attacco, il bianco gioca e per d5. C per d5 è stessa storia di prima, la donna si porta in b3. Ora, fermiamoci un attimo a valutare questa posizione. Ora qui, Nepomniaci però è riuscito a crearsi un pedone passato, per adesso anche ben supportato. Quindi, attenzione perché Ding gioca questa buona mossa h5, perché apre una via di fuga al re, c'è anche l'idea di spingere in h4, quindi buona mossa, e Nepomniaci porta avanti il pedone passato. Arriva anche h4, e qui arriva b6. H3, Ora, attenzione a qualsiasi tipo di tattica, di combinazione, perché se il nero riesce a dare uno scacco, e a entrare qui dentro è scacco matto, naturalmente si sta parlando con la donna, il re si porta in h1. Ora, il pedone passato, che è dal punto di vista strategico l'elemento più forte insieme a questa minaccia di matto di tutta la posizione, e quindi qui bisogna bloccarlo il prima possibile. Giustamente Ding ci porta una torre sulla colonna B, non so se forse interessante sarebbe stato portare anche l'altra, perché questa aveva già un bersaglio qui sulla colonna E, ma comunque, e addirittura Nepomniaci triplica i pezzi pesanti sulla colonna B. Ora, sarebbe importantissimo per il nero bloccare subito questo pedone, quindi giocare torre in B7, per quale motivo? Prima di tutto perché bloccarlo il prima possibile al pedone passato fa sempre bene, ma oltretutto, avendo questo alfiere camposcuro, riuscire a bloccare il pedone su casa scura sarebbe una bella manovra difensiva, e invece Ding gioca alfiere in D8, che è un errore strategico, adesso B7 è probabilmente, dal punto di vista strategico, proprio la continuazione più forte per il bianco, e invece Nepomniaci prova il cambio donne. Siamo arrivati al nostro quizone. Cosa fareste voi al posto di Ding? Cambiereste le donne in B5? Oppure sempre con l'idea del matto spostereste la donna in G4, o con la solita idea donna in F5? Non è tanto facile. Quindi mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo a noi, Ding giustamente non cambia le donne, perché per donna in B5 perde subito la partita, andiamo a vedere che succede. Dopo il cambio donne, la torre ricattura, ora qui bisognerà bloccare questo pedone, torre in B7, ma qui vedete che si perde tutto il centro, torre cattura in D5, e il bianco sta sicuramente vincendo la partita, perché poi gli casca pure l'altro pedone. Attenzione perché poi arrischio pure il terzo. Quindi Ding non cambia le donne, e bisogna scegliere se mettere questa donna in F5 a proteggere il centro, se mettere questa donna un po' in maniera più offensiva. Ding gioca donna in G4, e purtroppo non è quella giusta, non era facile, bisognava calcolare anche parecchio, per trovare donna in F5. Ritorniamo indietro, andiamo a vedere questa difesa migliore. Donna in F5, e va calcolata bene, perché qui la donna va subito sotto l'attacco del cavallo, addirittura si perde un pedone, cavallo cattura in D4, soltanto adesso donna in G4. Ora attenzione, non si può catturare il secondo pedone, perché come abbiamo visto in una variante precedente, Alfieri in F6 su questa diagonale è fortissimo, però B7 per il bianco sicuramente è la mossa migliore. Torre in A7, ora attenzione perché c'è donna in E8 con scacco, che è forte, il re si porta in H7, si vince anche il pedone, quindi il bianco ha vinto due pedoni, ma purtroppo sta per perdere il cavallo, non ancora però, perché bisogna giocare Alfieri in F6, e la partita rimane in parità, addirittura il bianco perderà un pezzo per tre pedoni, ma con uguali chance per entrambi i colori, ma in questa posizione il nero non può vincere subito il cavallo, guardate che succede, perché dopo donna cattura in D4, arriva lo scacco, donna in H5 con scacco, vedete che questa donna controlla l'importantissima casa di 8, scusate E8, c'è pure l'alfiere in mezzo che non permette la difesa della torre, torre in E2, vince la partita anche se questo alfiere si sposta, perché arriva e c'è un nuovo scacco, e quindi un disastro totale, perché dopo lo scacco, la torre cattura donna da scacco, il pedone dopo diventa donna, quindi per questo motivo è vinta questa partita. Ritorniamo quindi a donna in G4 giocata da Ding, adesso Nepognaci continua con donna cattura in D5, e qui arriva torre in A5, una fortissima deviazione, e noi sappiamo adesso che il bianco non può accettare la torre, perché qui arriva donna in F3 già con scacco, e poi c'è il matto, cosa bisogna fare? Qui in questa posizione la mossa del bianco per mantenere il vantaggio è giocare F3, quindi donna per donna, invece Nepo gioca donna in C6, quindi naturalmente la donna si sposta mantenendo il controllo della casa F3, ma in questa posizione Ding gioca torre in C5, quindi l'ennesima deviazione, purtroppo però manca la possibilità di pattare la partita, perché invece ritornando indietro di una mossa, bisognava trovare la difficile torre cattura in B6, guardiamola velocemente, perché se il nero gioca torre cattura in B6, di nuovo la donna sotto attacco, la torre è costretta a catturare, ora il nero può scegliere se riprendere la torre, o se prendere il cavallo che non è più protetto, la soluzione migliore è catturare il cavallo, che protegge con la donna, che protegge anche lo scacco di donna in E8, torre in B8 attacca ed inchioda l'alfiere, quindi sembra una posizione persa, ma qui arriva torre in E5, torre cattura in D8 con scacco, il re si porta in H7, adesso in questa posizione il bianco è forzato alla patta, e deve giocare per forza il sacrificio di torre in H8, il re cattura, donna in C8 con scacco, re in H7, la donna cattura con scacco, il re si deve portare in G6, se no arriva lo scacco vincente di torre, re in G1, donna cattura in D3, e questa è sicuramente una patta. Quindi ritorniamo a noi, quindi mosse difensive però molto complesse, ora qui considerate che Nepognaci è un giocatore che gioca velocissimo, qui siamo alla 33esima mossa, e quindi Ding Liren è già in grosso debito di tempo sull'orologio, quindi torre C5, la donna si sposta in E8 con scacco, re in H7, il cavallo spostandosi in G1, si toglie da quest'attacco della donna, anche se adesso era protetto dalla torre, ma più che altro, e sta anche proteggendo l'importantissima casa F3, ora attenzione perché c'è anche questo donna in E4 con scacco, che è anche forchetta, e che quindi obbligerebbe il nero a cambiare le donne, se il bianco riesce a giocarlo, e senza le donne, con il pedone passato, un pedone di vantaggio e forse anche due, il bianco si trova con un vantaggio enorme, incolmabile in questo finale, quindi posizione bruttissima per Ding, che gioca un sacrificio, torre cattura in B6, questa è una misura disperata per tentare un controgioco, la donna cattura l'alfiere, adesso il nero è un pezzo sotto, torre per torre, la torre ricattura, arriva torre in C1, che attacca e inchioda il cavallo, ora attenzione perché c'è anche l'idea del sacrificio, torre su cavallo, e dopo qui si minaccia il matto, però fortunatamente, Nepomniaci ha sulla scacchiera, e trova velocemente, l'idea difensiva migliore, l'idea difensiva è il cambio donne, donne in H4, con scacco e pure forchetta, quindi il nero costretto a cambiare le donne, finisce la sua minaccia di attacco di matto, il pedone G ricattura, torre in D1, il cavallo, vedete al bianco, gli rimane inchiodato, qui si minaccia di catturare il pedone, eppure di proteggere il pedone in H3, il bianco un po' bloccato, ma ha la mossa 40, quindi l'ultima mossa, prima dell'aggiunta di tempo, Nepomniaci trova questa interessantissima F3, che è la mossa che inizia a liberare tutta la posizione del bianco, Ding abbandona immediatamente, abbandona immediatamente perché vedete, se la torre cattura, e qui il pedone fa da scudo, e quindi il cavallo può catturare questo pedone, e quindi liberare il re, quindi il finale poi è vinto, perché il bianco ha un pezzo di vantaggio, una delle idee più interessanti del nero, giochiamo qualche altra mossa per vedere come si può sviluppare la partita, ah, oltretutto scusate, vedete che adesso, se questa torre cattura, il cavallo cattura, il nero non può, nonostante libera il re, che si porterà in G2 proteggendo il pedone, perché il pedone non si può neanche catturare, perché è tatticamente protetto, cioè il salto del cavallo in G5 con scacco, che vincerebbe la torre, quindi tutto anche tatticamente protetto, quindi visto che non si può fare, una delle idee migliori, è mettere in gioco il re, re in H6, però torre in B4, e stavolta minaccia il bianco di catturare, quindi praticamente forza il nero a catturare in D3, però catturando in D3 si schioda il cavallo, e schiodandosi il cavallo si libera il re, stavolta si può catturare il pedone, torre cattura in F3, il re attacca e difende, la torre si deve spostare, ma guardate un po', arriva prima il salto del cavallo, che minaccia di vincere il pedone, il pedone deve avanzare, il cavallo torna indietro, due volte sotto attacco un pedone che non si può spostare, che non si può neanche proteggere una seconda volta, quindi casca l'unico controgioco del nero, e quindi qui il finale è sicuramente perso. Nepomniaci vince ancora, ed è il solo a vincere in questo sesto turno, quindi allunga il suo vantaggio sugli avversari, il sesto turno ci dà quindi almeno una sentenza, Ding è quasi fuori dalla lotta per il primo posto, mentre Nepomniaci sembra che sarà lì a giocarsi da fino alla fine. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, al solito non scordate il like, non scordate di iscrivervi al canale, e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video, che sarà il settimo turno, l'ultimo giocato prima dello stop per il covid, e poi riprenderemo il torneo in live, quando tra due giorni il torneo riprenderà. A presto! Grazie a tutti!